15enne spruzza lo spray al peperoncino in un McDonald's di Verano Brianza. 25 clienti, di cui molti minorenni e 6 dipendenti, sono riusciti a mettersi in salvo per tempo e sono rimasti illesi. Il ragazzo è stato denunciato ed è scattata anche una sanzione per il commerciante che ha venduto la bomboletta. È accaduto ieri alle 16 e sul posto è intervenuta una radiomobile di Seregno e il locale è rimasto chiuso per 45 minuti. Intanto i militari della stazione di Verano Brianza hanno ricostruito l'accaduto. Una ragazza minorenne aveva acquistato lo spray urticante al peperoncino da un negoziante cinese a Giussano. Poco dopo l'amico, uno studente pakistano da tempo residente in Italia, ha nebulizzato volontariamente il prodotto nell'ambiente chiuso. Tutti i clienti e i dipendenti sono stati costretti a uscire immediatamente dal fast food che è rimasto chiuso per tre quarti d'ora. Nel frattempo sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica per accertarsi che nessuno avesse subito danni. Al termine degli accertamenti, i carabinieri della stazione di Verano Brianza hanno denunciato in 15enne per getto pericoloso di cose, mentre l'esercente del negozio di Casalinghi, un cittadino di origini cinesi, verrà sanzionato amministrativamente per non aver rispettato il divieto di vendita del prodotto ai minori di 16 anni. Così come previsto dalla normativa di settore sugli strumenti di autodifesa.